Buonasera professor Zangrillo. Allora, voglio dirlo in maniera chiara, inequivocabile, perché io lascio, lei lascia, e lascio questo mondo effimero, e certo con rammarico, perché lascio grandi ascolti, grandi titoli, grandi show, però lascio al culmine di una carriera fulgida. Beh, mi ricordo Mina, ma come Mina? Ricordo Mina che proprio a me alcuni anni fa dedicò sei grande, 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 sei grande solamente tu. Non è vero, non è vero. Non cercatemi più, ma ricordatemi così ad un livello altissimo. Altissimo, perfetto. Vi lascio ai crisanti, ai burioni, ai galletti hamburghesi. Scusate, ma la mia mission è quella di curare, di essere vicino ai malati, accanto a chi soffre. Questo le fa onore. Non insista, io lascio, non insista. Ma guarda che io non insisto, mi scusi, sembrava che sti stesse, ma ecco, lo dico in maniera chiara. Sì, lo dica in maniera chiara. Ora è meglio che io stia lontano dalle polemiche, perché è facile, sa? Cosa è facile? Cosa? Le polemiche, lo scoop. Ah, lei dice sì. Perché se io e lei andiamo in montagna, a 1600 metri, ad esempio a me piace tanto Madonna di Campiglio, io non so cosa piaccia a lei, perché io sono un alpinista di un certo livello. E più salgo, e più il livello aumenta. Sale Zangrillo, aumenta il livello. Aumenta il livello, sale Zangrillo. Allora, so che è difficile per lei, perché lei d'inverno forse, non so, piace andare in Corriera, 6,40, da Reggio Emilia all'Appennino Tosco Emiliano, dove è il massimo della vita mondana, e mangiare un panino insieme magari a un virologo di un ospedale sacco di Milano, casualmente seduto a fianco a lei, paninazzo con cotoletta. Vabbè, può essere, ma come ci sarebbe? Ma fazzone la cotoletta e ma fazzone il panino. Non è detto che mi piaccia, ma insomma non ci sarebbe niente di male. Allora, metta che il virgolto Pennuto, il virologo Pennuto, mi scusi ma io devo lasciare, io comunque lascio, allora metta che il virologo Pennuto dirotti la sua Corriera proprio a un Madonna di Campiglio, dove agogna incontrarmi, e ci troviamo lì, non per caso evidentemente. Io nella mia baita bere il quantro davanti al Camino, con questo gesto, e lei fuori a guardarmi dal vetro, in mezzo alla tormenta, triste, come nel film una poltrona per due, tira fuori il salmone con i peli della barba finta del virologo a fianco, non so se la ricorda, io col cashmere davanti al Camino, e lei al freddo fuori sbavando, ci salutiamo senza mascherina, supponiamo, casualmente arriva un virologo e chiama il fotografo amico, il virologo Valle Spluga, che spera di raggranerare qualche euro vendendo la foto del mitico Zangrillo che saluta caminamente di un certo livello, scoppia la polemica. Ma perché deve scoppiare la polemica? Perché non apro, né a lei, né al fotografo, né tantomeno al virologo terrorista, dirottatore al forno con le patate. Sempre galle, vabbè. Vede io, medicamente, sono odiato da una serie infinita di persone, due più, due meno, la cosa mi onora, lo scriva pure nel libro che sta facendo su di me. No, non sto facendo nessun libro su di lei, guardi. Beh, questo mi sorprende, forse qualcuno dovrebbe, come quella volta che mi chiesero di fare il ministro della Sanità. Ah, è vero, chi gliel'ha chiesto Berlusconi? Beh, non certo il Mortadella. Chi? Ah, Prodi. Non certo il Mister Metafora. Chi è? Ah, Bersari. Non certo il Paccatamente e Serenamente. Ah, Bertroni, vabbè, gliel'ha chiesto Berlusconi. Beh, allora, lui mi dà del tu, ma io gli do del lei. A Berlusconi, bravo, sì, sì. Ma non per questo non dico quello che penso e lui mi rispetta. Beh, questo è bello, no? Allora, sa dirmi che cosa sono queste, secondo lei? Cosa? Cosa sono queste? Sono delle chiavi. Forza, me lo dica. Sono delle chiavi, è facile, chiavi. Di un certo livello. Le chiavi. Timoramente, tenutamente, queste sono di Villa Certosa. Ah, Urca. Queste sono di Arcole. Ah, addirittura. Queste della Cantina. Vabbè, vabbè. Queste del Quadro Elettrico. Abbiamo capito, abbiamo capito. No, non ha capito perché questa è quella dell'antifurto. Vabbè, senta. A doppia mappa, deve inserirla tenendo premuto il tastino dietro. Si ricordi il codice segreto che è F-I-G-A. Vabbè, certo, casa di Berlusconi. Allora, solo per dirle che posso entrare a casa sua quando mi pare piace. Ma questo chi se ne frega? Senza di essere atteso. Bene, bene, bene. L'altra sera canticchiando, io canticchiavo la bohème. A me piace molto la bohème di un certo livello. Sono entrato in camera sua, lui stava cavalcando un amazzo, neanche lui di un certo livello. Non ci interessa. E io senza peli sulla lingua gli ho detto, presidente guardi, quello è il comodino, la ragazza è quella là. No, vabbè, vabbè. Lascio. E vabbè. Addio. Addio. Addio.